Ha percorso 15.000 km per raggiungere il salone, Mazda 3 arriva direttamente da Hiroshima perché oltre a far bella mostra di sé su una passerella prestigiosa come quella tedesca, ha voluto mostrare al mondo intero le sue potenzialità. Design kodo e tecnologie Skyactiv infatti rendono la vettura un gioiello di ultima generazione. La nostra proposta tecnologica non è quella del ridimensionamento perché oggi si parla tanto di down sizing ma tradotta questa parola vuol dire ridimensionamento, noi invece parliamo di right sizing perché anche avendo dei motori leggermente superiori in termini di cilindrata possiamo ottenere dei consumi e delle emissioni limitate. Ci piacciono vetture che accelerano da 0 a 100 in 8 secondi come avviene con Mazda 3 ma che poi hanno dei consumi di 3.8 per 100 km. Cofano avvolgente, ampia griglia a 5 sezioni verticali e l'imponenza prima di tutto, ecco il nuovo concept di Suzuki, un SUV compatto di segmento B che esprime il proprio know-how attraverso uno stile moderno e innovativo, fatto di dettagli e dell'immancabile robustezza del brand nifonico. Nuovo concept anche per Subaru, in anteprima assoluta per il pubblico europeo, VRX, un'evoluzione che punta a volumi muscolosi e a linee decise, che posiziona sotto il cofano un motore boxer che non rinuncia alla trazione integrale permanente e che mette in conto anche tanta originalità.